I cittadini dell'Unione Europea residenti nel Regno Unito che hanno mancato la scadenza per richiedere lo status di insediamento post-Brexit rischiano gravi conseguenze. Da questo giovedì qualsiasi cittadino europeo che non abbia fatto domanda perderà il diritto legale a lavorare, affittare un alloggio e accedere alle prestazioni sociali. Queste persone possono essere soggette a deportazione. Fino all'ultimo minuto le persone hanno fatto la fila per cercare di ottenere i documenti mentre il caponegoziatore dell'Unione Europea, Maros Sefcovic, chiedeva al Regno Unito maggiore flessibilità. La possibilità di un'estensione è stata discussa con i nostri partner del Regno Unito ma non siamo riusciti a trovare una soluzione. Sto supplicando tutti coloro che si occupano di questi problemi di essere generosi con coloro che sono vulnerabili, con quelli che a causa delle restrizioni Covid non hanno potuto presentare la domanda in tempo utile e di essere ragionevoli. Tuttavia, secondo gli esperti, c'è davvero poco che l'Unione Europea possa fare e nel lungo periodo il danno è permanente. Ecco che cosa ne pensa un politologo. In questa fase c'è ben poco che l'Unione Europea possa fare a meno che il Regno Unito non veda il senso di una maggiore flessibilità. Chiaramente abbiamo avuto questi periodi di grazia, questi periodi di estensione che hanno contribuito fino ad ora ad attutire il colpo della Brexit ma ora stiamo vedendo in molte aree il vero impatto della Brexit. Cosa fa al commercio, cosa fa alle persone, alla migrazione e tutto questo continuerà. Bruxelles e Londra intanto hanno stretto una tregua temporanea sulla cosiddetta guerra delle salsicce, annunciando mercoledì di aver concordato di prolungare un periodo di grazia per le esportazioni di carne refrigerata tra la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, almeno fino al 30 settembre.